Tre punti di conclusione per quanto riguarda il mio intervento, ancora una volta grazie a tutti voi per l'attenzione, avremo modo anche nella giornata di parlarne, di discuterne magari non da un podio ma a viva voce. Quindi non rubo altro tempo, grazie e vado subito a presentare il prossimo speaker che è il professor Fava, lui è un deus ex machina della bioeconomia a livello europeo e quindi ci accompagna essendo il delegato poi del MIUR, il comitato di programma quindi dell'Orizzonte 2020 un po' in tutti i nostri lavori. Ma devo dire che è sempre con spirito collaborativo che lo fa, mi permetto di dirlo. Grazie Fabio. Grazie molto, grazie. Buongiorno a tutti voi, grazie per l'introduzione, molto affettuosa e grazie per il grandissimo invito ad essere qui quest'oggi e grazie senza nessun motivo di captazio benevolenza per aver pensato a questo convegno che ritengo, non sono certo, contribuirà moltissimo alla crescita della bioeconomia nel mezzogiorno. E secondo me non solo, c'è bisogno molto in questi momenti. Dunque io ho una presentazione abbastanza tecnica, mi è stato chiesto di parlare della bioeconomia nel nostro paese e specificatamente del ruolo che le biotecnologie possono avere perché la bioeconomia possa crescere più agevolmente. Intanto, come il dottor Di Giulia ha già introdotto, la bioeconomia è qualcosa di complesso, è un insieme di tanti settori che ben conosciamo, sono tradizionali ma è bene rifocalizzarli. L'agricoltura, l'allevamento, l'acquacoltura, la pesca, l'industria alimentare che processa le biomasse che derivano da queste produzioni primarie che ho menzionato. Poi c'è la produzione forestale, le bioraffinerie che è un'area nuova, sono ambiti nuovi, realtà industriali che processano biomasse di un cellulosi, quelle forestali, quelle non alimentari, nonché i sottoprodotti, scarti dell'industria alimentare e ne fanno composti chimici, materiali, combustibili di grandissimo interesse per comparti industriali molto importanti nel nostro paese. E poi c'è il mare con le sue attività marine e marittime. Un insieme particolarmente interessante, il dottor Di Giulia ha già dato delle informazioni, si stima in Europa che la bioeconomia faccia 2 trilioni di euro, oltre 20 milioni di posti di lavoro. Nel nostro paese ho fatto dei conti in questi mesi cercando di far base a tutte le informazioni ufficiali disponibili, potrebbe essere oltre 230 miliardi di euro ogni anno, sicuramente oltre 2 milioni di posti di lavoro. Ambiti e numeri importanti che possono crescere nei prossimi anni. Se riusciremo con efficacia, con la solita ricerca e innovazione molto importante a gestire le criticità, ma a cogliere anche le opportunità che abbiamo all'interno di ognuno di questi settori. Ma soprattutto se riusciremo ad integrare, non solo il pubblico, il privato, le istituzioni, come è stato detto, ma a integrare questi settori tradizionalmente autonomi per fare un sistema più ampio. E' tempo di vedere le bioraffinerie come attività industriali importanti e emergenti parallele al food, non confliggono col food, lavorano su biomasse complementari, anzi sono insimbiosi con l'industria alimentare. Le sottoprodotti e scarte dell'industria alimentare sono splendide materie prime per le bioraffinerie, che ne fanno tanti prodotti interessanti, alleviando l'impatto ambientale dell'industria alimentare. Non è conflitto, ma è addirittura simbiosi. Questo è molto importante. Se facciamo partire questo sistema, riusciamo a portare delle opportunità importanti alla rurale, alle aree costiere, a convertire siti industriali in nuove attività, come sappiamo. Bene, il mio compito è di seguire parere di bioeconomia, la ricerca e innovazioni in tutti questi pilastri che vi ho menzionato e il ruolo all'interno di questi delle biotecnologie, nelle loro diverse declinazioni. Il settore agricoltura e allevamento fa oltre 600 mila posti di lavoro, circa 28 miliardi di euro. È un ambito molto importante, ma che ha delle criticità? C'è un abbandono delle aree rurali molto importante. In Italia un milione e mezzo di ettari di terra non più coltivati, in questa regione 90 mila ettari di terra non più coltivati. E questa è una criticità importante. Utilizziamo poche specie, siamo un po' aggressivi nell'utilizzare il terreno, il territorio. Quindi c'è da fare ricerca e innovazione su diversi fronti, sicuramente riportare più materiale organico al suolo. Tante cose da fare, da gestire la rotazione delle coltivazioni, da fertilizzare in maniera diversa. Ma c'è un ambito nuovo a cui la Commissione fa attenzione. La gestione delle comunità microbiche nel suolo. E questa è una parte di grande interesse per la biotech. E perché attraverso questa gestione del microbioma, del suolo, possiamo fissare più CO2, fare più materiale organico, liberare più nutriliti. Questo è un ambito nuovo, molto interessante. Ovviamente la selezione è molto attenta delle specie, nuove specie, le specie che si prestino bene per i nostri climi. Scelte fatte con marcatori, il breeding, il miglioramento di queste specie, perché queste crescano di più, faccia più biomassa, contengano più nutriliti all'interno. Qualche biomassa può fare dei composti chimici e dei materiali particolari. Tutto questo è quello che evidenzio col circoletto rosso, è spazio per le biotecnologie. Biologia molecolare, biotecnologie verdi, nelle loro diverse declinazioni. Naturalmente la biodiversità, valorizzare la biodiversità, è un altro must in quest'ambito. Una grande opportunità da valorizzare. Ma va conosciuta, va caratterizzata e di nuovo grande spazio qui per le biotech. Poi c'è la coltivazione naturalmente in serra, varie questioni, efficienza energetica e non solo, ma c'è la tracciabilità, l'autenticità dei materiali. Qui di nuovo le biotecnologie possono giocare un ruolo molto importante. Poi c'è la produzione su grande scala, quindi l'agricoltura di precisione. Sono spazi nuovi dove l'agricoltura deve integrare, deve incorporare i kineli in technologies, l'ICT ed altro, per essere più produttiva ma più sostenibile al tempo stesso. Allevamento, un'altra priorità importante per il Paese e anche per questa regione. Abbiamo bisogno di fare più attenzione nella predeterminazione del sesso. Abbiamo bisogno di far breeding per migliorare la longevità produttiva degli animali. la resistenza alle malattie e su tutto questo fronte abbiamo le biotech come indispensabili, le biotech rosse, mediche, veterinari, le conosciamo. E poi c'è l'allevamento, qui abbiamo problematiche di salute degli animali, alimentazione, nuovi feed, ma c'è anche la priorità di sostituire o ridurre l'uso di ormoni, l'uso di antibiotici. E qui c'è spazio per le biotecnologie, ancora una volta. Nonché gestire in maniera intelligente i sottoprodotti, gli scarti, gli effluenti. Dobbiamo al minimo farci metano ma possiamo farci di più, possiamo farci anche dei chemicals e dei materiali. Nonché naturalmente anche compost e fertilizzanti. E qui di nuovo grande opportunità per le biotech, più industriali questa volta e più ambientali rispetto a quelle menzionate prima. Industria alimentare, un pilastro nel nostro paese, se ne parlerà nel pomeriggio con l'intervento di TV Cluster, fa 230 miliardi, 233 miliardi di euro nel 2003, è stato questo. Il terzo paese in Europa fa 400 mila posti di lavoro, però è fatto al 97-98% da piccole aziende, e quindi ci sono delle frangibilità dietro questi numeri. Anche qui c'è bisogno di ricerca e innovazione, di nuovi alimenti, alimenti con proprietà nutrizionali specifiche, alimenti che possono consentirci di mitigare i disagi associati all'obesità, disagi, l'obesità e i disagi dell'aging. E qui c'è molto spazio alle biotecnologie di nuovo, microrganismi, enzimi, i probiotici, prebiotici che favoriscono la crescita dei giusti microrganismi, il microbioma intestinale, la gestione di questo, ma soprattutto l'impatto degli alimenti. C'è tantissimo qua di spazio per le biotecnologie. Poi naturalmente abbiamo bisogno di cibi DOP, IGP, prodotti di questo tipo. Abbiamo bisogno soprattutto di difendere i nostri prodotti, difendere la contraffazione, i nostri prodotti della contraffazione e dell'imitazione. Quindi anche qui bioanalizzatori, sistemi, e qui di nuovo le bioteche hanno un ruolo molto importante. Non ultimo, la sostenibilità. Uno dei grandi problemi dell'industria alimentare in tutta Europa, ma anche nel nostro paese, è che ha dato impatto ambientale, tra virgolette, consentitelo. Consuma troppa acqua, troppa energia, troppi rifiuti, produce troppi rifiuti a sottoprodotti. Quindi c'è bisogno di aumentare l'efficienza di trasformazione, ridurre appunto il consumo di queste materie prime, ridurre la produzione di waste, di sottoprodotti, e valorizzarli anche. Fare di queste materie prime, per esempio, per la produzione di composti chimici. Ma anche ingredienti, se si parte da byproducts, da sottoprodotti. Ingredienti alimentari che tornano alla filiera, ma comunque composti chimici, materiali e energie. C'è molto da fare su questo fronte, lungo la filiera. E qui dentro, come vedete, ricorre spesso enzimi, microorganismi, processi, biotech. Non ultimo, i biomateriali con cui possiamo arrivare a un packaging più sostenibile. Quindi grandi opportunità per le biotech industriali anche in quest'ambito. Altro settore importante, le foreste, interessa moltissimo. Siete la sesta regione in Italia come produzione forestale. Come vedete, il settore è molto importante per il Paese. Fa 600.000 posti di lavoro, fa 28 miliardi di euro. Ma se andate a vedere, il grosso di questi numeri è legato alla lavorazione del legno. che è una lavorazione però tradizionale. Non solo, ma il grosso del legno processato viene da via, non è nostro. Noi abbiamo 10,5, se non vado errato, cerco di studiare attentamente, 10,5 milioni di ettere di foreste nel nostro Paese. Ma utilizziamo una piccola parte del legno prodotto. Il resto viene importato dall'esterno. E questo è qualcosa a cui dobbiamo porre rimedio. Anche qui c'è bisogno di ricerca e innovazione. C'è da far sì che i boschi si adattino bene ai cambiamenti climatici, che consumino il più possibile di cui abbiamo bisogno. C'è da conservare la biodiversità, proteggere dalle specie infestanti. E qui c'è il biotech di nuovo, molto spazio per le biotecnologie. Poi naturalmente c'è molto da raccogliere come informazioni, elaborare dei sistemi che possano consentirsi di gestire il bosco. Poi c'è il bosco artificiale, il bosco coltivato. Le cosiddette short rotation forestry, cioè quelle produzioni brevi che spesso si rinnovano anche più volte durante l'anno, su cui è importante l'aspetto genetico, l'aspetto di miglioramento della biomassa prodotta a fini industriali. Per esempio è una produzione di biofuels. Poi abbiamo la possibilità di impiegarli per decontaminare siti. E di nuovo questa è una parte di biotech. Quindi spazi importanti per quelli che sono, in questo caso certamente, biotecnologie verdi e nell'ultima parte ambientale. Poi c'è da lavorare per fare prodotti che valgono di più dal nostro legno. Perché no anche per alimentare con questo le bioraffinerie. Bioraffinerie che sono una realtà nuova, nuova, recente se volete, nel nostro paese, ma che stanno crescendo in maniera rapidissima, al punto che siamo certamente un buon punto di riferimento, anche secondo l'Ocse, in un contesto non solo europeo che va oltre l'Europa. Sapete, sono delle raffinerie che processano biomasse non alimentari, nonché sottoprodotto scarti dell'agricoltura, ma anche e soprattutto dell'industria alimentare, che ne fa in grossi volumi, 13 milioni di tonnellate almeno ogni anno nel nostro paese, per fare composti chimici, materiali e combustibili, come diceva il dottor Di Giulio, che poi vanno a dare innovazione, nuove opportunità, nuove competitività, a settori dove siamo molto forti, che vedete elencati, quasi tutti abbagliano, alla destra della slide. E qui siamo, ripeto, nelle prime fasi, ma stiamo andando molto bene, su questo tornerà la dottoressa Gregori nel pomeriggio, non sto a entrare nei dettagli, ma l'Italia ha tanti insediamenti, nuovi, altri meno recenti, ma che danno all'Italia grandi possibilità. Anche qui però c'è bisogno di fare tanto, c'è sicuramente da trasferire quanto prima quello che abbiamo fatto nelle nostre università, nei centri di ricerca negli anni passati, convertire conoscenza in innovazione, cioè posti di lavoro, prodotti, servizi. C'è da fare sicuramente questo, e per far questo servono leggi, servono policy, servono delle strategie che aiutino il percorso, nonché la comunicazione, la società deve sapere qual è il vantaggio di utilizzare un prodotto by-based, intanto che cos'è e qual è il vantaggio di utilizzarlo rispetto al tradizionale. Ma c'è anche bisogno di c'è che innovazione, questa è la parte che ci interessa di più, c'è da lavorare molto sui Fistox, le materie prime, dobbiamo trovare altro, di non alimentare ovviamente, dobbiamo cominciare a capire se la sciolture può essere una fonte davvero interessante di carbonio da infilare all'interno di bioraffinerie, lo è, ma bisogna capire come farlo e farlo bene. i bio-waste, i rifiuti organici che abbiamo, che stiamo accumulando, le nostre città peraltro ne stanno raccogliendo sempre di più, come possono entrare, c'è un problema di logistica nella raccolta, c'è un problema di pretrattamento di questo materiale, e qui in questa zona di nuovo le biotech possono avere un ruolo molto importante. Poi c'è il processo, non è facile convertire sistemi così complessi come una biomassa idrolizzata in composti che ci interessano. Non è facile, bisogna integrare i percorsi perché si abbia la cosiddetta multi-purpose bio-refinery, cioè la raffineria a cascata che fa più prodotti, che è quella che è più sostenibile. Bisogna integrare il bio con il chimico, con sequenze che vanno studiate di volta in volta. C'è il downstream processing, cioè il recupero del composto che ci interessa nel mare magnum di composti che produciamo. In tutto questo le biotech hanno di nuovo un ruolo importante di rilievo. Non dobbiamo dimenticare che molte industrie, anche italiane, stanno utilizzando nella loro produzione di monomeri per fare biopoliberi, composti che sono stati, che vengono prodotti da ceppi di escericchiecoli geneticamente modificati attraverso approcci di systems biology di un certo livello. Come gli alcoli superiori, cioè l'etanolo, ma si possono produrre su scala industriale anche altri alcoli, altri fuels superiori. Questo spesso lo si fa con microorganismi costruiti dalle biotecnologie industriali. Mare marittimo, l'ultima parte, è una realtà che in Italia fa circa 41 miliardi di euro ogni anno e che viene impegnati 800.000 persone. ma non è solo quello che facciamo il mare e il marittimo. Adesso facciamo pesca, facciamo un turismo non sempre particolarmente puntuale, trasporto marittimo, ma il mare e il marittimo è molto di più. E per un paese come il nostro che ha 7.800 km di coste è davvero molto di più. La produzione di energia, per esempio, è ovviamente offshore, l'ottenimento di minerali, la produzione, l'ottenimento, estrazione di petrolio e olio in maniera però più sostenibile, è fare acquacoltura a mare, utilizzare le biomasse del mare, utilizzare i microorganismi del mare, gli enzimi del mare, nei processi di bioraffineria, ad esempio. Ma per far questo occorre conoscere bene la biodiversità, capire come impattano queste strategie sulla stessa. E tutto questo è spazio per le biotech. Poi c'è l'inquinamento, la gestione dello stesso, in situ, le bioremediation, quindi altra biotech, spazi importanti per le biotech. Insomma, tante opportunità, sto per finire. Tante opportunità che possono trovare spazio, opportunità di cofinanziamento in Horizon 2020, di cui si è parlato. E vedete, qui ho messo in una slide in rosso gli ambiti, le societal challenges, nell'ambito delle quali sono disponibili dei finanziamenti per sostenere priorità, come quello che ho detto. Trovate sotto l'energia, la bioeconomia, la societal challenge 2, vedete, la 3 è l'energia, la 5 è il climate, l'ambiente. Poi c'è la parte delle CATS, dove le industrie patrimonio sono state inserite. C'è la public-private partnership che è stata menzionata, la 5-based industry che ha menzionato il dottor Di Giulio, ma ancora prima la dottoressa Badiello. Molto importante per questo simbiosi con l'industria e non solo. E poi non dimentichiamo i fondi di cui si è parlato in apertura, molto, molto importanti, che stanno arrivando, che sono in arrivo. Però, però, queste opportunità vanno un po' gestite. Bisogna essere insieme, bisogna integrarsi. Io qui cito i due clusters di cui si parlerà nel pomeriggio, quello agrifood e l'altro della tipica verde. È possibile che a breve ci sia anche un cluster che si chiama i blue growth nel nostro paese. Cluster, pubblico-private assieme. Questo è molto, molto importante. Perché queste opportunità ci sono. L'Italia partecipa, ma spesso non riesce a farlo con successo. Perché è frammentato. Molto importante di essere insieme perché questo consente, dove è possibile, di indirizzare i contenuti di questi bandi e fatto, dove è possibile, non è sempre possibile, ma dove è possibile, le priorità vengono inserite e poi poter partecipare in maniera robusta e con successo. Questo è molto importante. Io sono molto ottimista, sono convinto che il futuro del nostro paese sia bi-based, sia quindi legato alla bioeconomia. ne sono assolutamente convinto, sono sempre ottimista. Quindi, però lo sono moltissimo su questo fronte e non solo, sarà probabilmente più bi-based di qualche altro. Grazie.